Aspettate un attimo, eccoci qua. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, la zuppa del 7 maggio. Allora vi do subito un piccolo consiglio alla lettura, posto che poi alla fine questa zuppa serve anche a questo, ormai sono cinque anni che ci diamo consigli alla lettura. La questione che agita il governo è la questione Siri. Oggi tutti i giornali ne parlano, commenti su commenti, lasciate perdere tutto, non perdete tempo, stiamo in una grande, gigantesca bolla di minchiate che hanno intrattenuto i giornali nelle ultime 15 giorni. Siri, non Siri, adesso è uscito anche il fatto che si è fatto dare un mutuo dalla banca di San Marino, quando te lo fai fare, sostanzialmente da una banca in blacklist il notaio non può che segnalare l'operazione sospetta alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia la mette alla procura e si crea un altro grandissimo abbaglio. Perso tempo, già sono forse un minuto che sto parlando da questa parte, di questa roba, ci sarà domani un consiglio dei ministri, questi ci hanno l'accordo, certo la Lega lo capisce anche un bambino piccolo, 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 non si mettono a fare una crisi di governo per la tenuta del sottosegretario Siri alla vigilia delle elezioni. Qualcuno di voi può credere che si faccia una crisi di governo su questo? Nessuno. Vedremo cosa succede dopo le elezioni e quanti voti prenderanno l'uno o gli altri e lì si capirà se una crisi di governo ci sarà. Va bene? Ma il punto fondamentale della giornata che a me diverte da morire, tra l'altro in questo momento stanno procedendo degli arresti, anzi stamattina hanno proceduto degli arresti tra i quali un candidato di Forza Italia che era considerato il volto giovane di Forza Italia, Piero Tatarella a Milano, in un'altra di queste inchieste, mafia, tangenti, stecche, attenzione, attenzione vi prego, lo dico a tutti i giustazionisti di questo mondo, io spero che nella mia zuppa ce ne siano pochi, vale per la Raggi, vale per Siri, vale per Tatarella, eccetera, le inchieste non si fanno con gli arresti, cioè i giudizi non avvengono con gli arresti, non avvengono con gli avvisi di garanzia, attenzione, vediamo cosa succederà nel corso di un processo, la cosa che è certa è che questi signori sono stati fottuti elettoralmente, certamente non li voterà più nessuno e avrà un risvolto anche sulla campagna elettorale, io devo dire la verità, ho conosciuto Tatarella, ho visto che ha un grandissimo seguito e pensare che lui sia un mafioso, poi nella vita può succedere tutto, mi sembra una cosa incredibile, non ho letto le carte della procura, non ho un elemento neanche per giudicare quelle, ne riparleremo sicuramente nei prossimi giorni e domani, ma la cosa più incredibile, più incredibile di queste ore è la questione del Salone del Libro di Torino, io ho scritto qualche libro, non mi hanno ovviamente mai invitato né io mai ci andrò, perché a me è andare in quel club di sfigati, avete capito? Sfigati, perché un club di persone che si occupano soltanto del fatto di 10 metri quadri, di 10 metri quadri su 6.000 del Salone, come scrive oggi Mattia Feltri, di un editore che a me non piace, non me ne fotte nulla degli editori vicini a Casa Pound, ecco, ma se questo è il tema del Salone del Libro di Torino, allora sono una sciommiottatura negativa e ridicola della grande, diciamo, politicamente correttezza degli americani, cioè una cosa orrenda, orrenda, ma pensate un po' voi se questi oggi si stanno dipantendo con Città del Gregorio, sì ci vado, Tommaso Montanari, no io non ci vado, gente che ha prodotto, che cosa? Cosa ha prodotto? Che libri ha prodotto? Allora vedete, vi può stare simpatico o antipatico Saviano, ma Saviano è uno che ha venduto milioni di libri, vi possono stare simpatici o antipatici, Susanna Tamaro, vi possono stare antipatici su Estello e Rizza, me ne posso pubblica, ma questi stiamo parlando di gente che ha popolato 4, 5 mila, 6 mila e vivono in questa specie di piccolo circolo verdurè in cui se la prendono gli uni con gli altri sul loro partecipazione o no a un salone in cui c'è peraltro una roba banale, cioè uno stand di persone che sono vicine a Casa Pound, se questo per voi oggi è il livello del dibattito culturale in Italia vi rendete conto che siamo tornati 60 anni indietro, quando nel futuro i problemi saranno Amazon, le piattaforme, l'etica, l'utero in affitto, cioè stiamo guardando ancora il fascismo, questi sono matti e ha perfettamente ragione oggi Daniele Capezzone, il vero punto fondamentale è che si scrivono pezzi uno con l'altro, cioè si leggono tra di loro, Montanari che cosa aveva scritto la De Gregorio, la De Gregorio che cosa aveva scritto Settis, quell'altro che cosa aveva scritto Veronesi, ma chi se li freda, ma scrivete un bel libro invece di scrivere queste cagate, io faccio parte della giuria del premio Strega perché grazie al cielo mi ha messo lì dentro il fondatore del premio Strega e lo ringrazio da tanti anni, beh insomma, oh ma avessi letto un libro decente negli ultimi anni, ecco questo M di Mussolini, ma guarda caso che è fatto da un antifascista come Scurati, tra l'altro criticato da Galli della Loggia, mi sembra una cosa meno leggibile, ma comunque avessi letto un capolavoro, ma avete letto un capolavoro negli ultimi anni dell'elettoratore italiano? No, leggete se partecipano o no al Salone del Libro di Torino, ma andate a quel paese, c'è ragione capezzone, come diceva Moretti, mi si nota di più se ci vado o se non ci vado, questo è l'unico grande tema del Salone del Libro di Torino, cose serie, le cose storie sono le borse in calo, perché sono serie? Perché le borse in calo ieri sono state in tutto il mondo perché Trump sbagliando, sbagliando, sta continuando a miniciare l'ondata di dazi nei confronti di 200 miliardi di prodotti made in China, che evidentemente riguardano anche gli Stati Uniti, passando i dazi dal 10 al 25%, le borse di tutto il mondo crollano, questo è il tema che scriveva Bastiat, un giornalista che aveva un po' di seguito a differenza dei veronesi e compagnia cantante, diceva quando non passano le merci passano le armi, attenzione perché i dazi non sono una roba buona, sapete che nei confronti di Trump ho giudizi basati sui risultati economici di questi ultimi anni, ottimi quando si tagliano le tasse, quando si guarda al mercato del lavoro con intelligenza, sulla roba dei dazi è vero, più minacciati che realizzati, insomma il rischio è fortissimo. Nel frattempo in Italia mancano 500 persone per lavorare sulla riviera adriatica perché i giovani non vogliono più fare i camerieri, sostiene il giornale di oggi. Capolavoro la caduta di Giovanni Cocco, si direbbe il Salone del libro di Stalingrado, dice qualcun altro, buongiorno da Santa Margherita Susanna e che noia, dice Barbara, non so se è questa zuppa che lo annoia su Instagram, spero di no. Il conto per l'Italia sapete qual è? 93 miliardi, è il titolo oggi della Repubblica, 93 miliardi da dove esce ci hanno messo sopra i dazi di Trump, Bruxelles che ci richiederà di fare qualche manovra e l'altra cosa che mettono insieme è flat tax, pere e mele, un pezzo che è imbarazzante, cioè allora vale tutto, io capisco che loro abbiano una foga antigovernativa e chi non ce l'ha rispetto a questi quattro cazzoni, ma è allora facciamo quello che ha fatto il quotidiano nazionale, il titolo sul fatto che questo decreto sblocca cantieri, non sblocca niente come abbiamo detto nei giorni scorsi, ma lanciare così i numeri a capocchia non serve assolutamente nulla, 93 miliardi, ci metti la flat tax, ci metti Bruxelles, ci metti i dazi, sì c'è una cosa che abbiamo proposto politicamente, una cosa che ha minacciato Trump e una cosa che dovrebbe arrivare oggi dalla Commissione Europea, boh, insomma a quel punto la credibilità vale tutto, vale anche Travaglio, che se la prende con Fubini, che Fubini ha detto una serie di minchiate negli ultimi anni, ma come tutti noi giornalisti facciamo, in realtà una che ne ha detta non gli è stata passata né da ieri dalla verità né da tanti altri giornalisti, mi sembra Mario Giordano, e cioè quel fatto che lui si è astenuto dal dire che in Grecia, grazie all'austerity purtroppo morivano più bambini, prematuramente. Allora io, va tutto bene, figuratevi un po' voi se devo difendere Fubini, io contesto il suo pessimismo cosmico, il suo europeismo diciamo dogmatico, ma da questo a dire che deve intervenire l'ordine dei giornalisti, ecco questa è la cultura perfetta del fatto comunista, non fascista, comunista, per cui non ci può essere lo stand di Casa Pound, per cui ci deve essere l'ordine dei giornalisti che sanziona Fubini, chissà per quale cavolo di motivo, la sanzione la dà il mercato, cioè se non ti piace Fubini non te lo leggi, se non ti piace Fubini non compri il Corriere della Sera, se non ti piace il titolo di oggi di 93 miliardi fatta da Repubblica, non compri Repubblica caro Travaglio, se non ti piace le schifezze che scrive Travaglio non compri le schifezze di Travaglio se tu le ritieni tale, no? E questo il mercato, non l'ordine dei giornalisti, non i magistrati a fare le perquisizioni per vedere se Fubini aveva le notizie o la magistratura dovrà decidere non so che cosa, di credulità popolare, ecco questa è la cultura illiberale di questo paese, per cui non si può avere uno stand di Casa Pound o di un editore vicino a Casa Pound e si deve invocare l'ordine dei giornalisti perché Fubini ha scritto delle cose che io contesto, ma le scrivesse, ma è una roba pazzesca pensare che si debba avere l'ordine dei giornalisti in questa vicenda, questa sera noi abbiamo Matrix, elettorale come sapete le puntate che ci avvicinano al 26 maggio, tantissimi ospiti, ci sarà anche Matteo Salvini, ci sarà Giorgia Meloni, ci saranno i candidati del PD, visto che la settimana scorsa abbiamo fatto zingaretti nella seconda parte, insomma Matrix questa sera in seconda serata sul canale 5, non ve lo perdete e sul sito nicolaporro.it tante altre informazioni anche su questi deficienti che si accapigliano per il salone del libro di Torino, una roba da matti, ciao!